e se non segni che succede se produci cinque occasioni da cotto tre al primo tempo due al secondo che succede che cosa succede diremo voi che succede succede quello che abbiamo visto tutti succede tutto quello che abbiamo visto tutti che questi al primo tiro per un porta in 90 minuti sulla prima sbaffatura nostra cazzata nostra la pagamo gara e vincono la partita 1 a 0 e vincono la partita 1 a 0 partimo da una premessa intanto me lo dico perché perché non puoi perdere partite come queste perché fino a ieri c'è qualcuno che l'ha dipinto come chissà che cosa sto Salisburgo sembrava Real Madrid e stasera in casa loro gioco tecnico possesso interdizione la corsa e del quante l'anno fatto un tiro a porta un tiro a porta che è un tiro a porta torto il gollo che arriva dalla cazzata nostra ma c'erò del culo perde così perché l'abbiamo persa noi perché purtroppo il calcio è questo se non segni non vinci e se non segni non vinci tu c'è possibilità che lo fanno gli altri come è successo con Salisburgo proprio stasera perché stasera per essere poco cattivi poco incisivi lì davanti sotto porta stasera ci hai perso la partita e sabato scorso con lecce ci hai lasciato due punti in Salento ecco che cosa succede se non segni me c'erò del culo che sì ma no perché hai offerto una prestazione brutta certo non hai fatto una prestazione tonica a mio avviso hai fatto la prestazione è stata la Roma di Murigno che si è difesa bene organizzata e quando ha potuto ha creato ma se siamo magneti l'impossibile ha fatto una gara discreta niente la c'erò del culo che non hai fatto una Roma di Murigno ma purtroppo succede questo se non segni succede questo succede questo io mi sono rotto il cazzo perché due punti sabano a lasciare in Salento oggi esci da sto cazzo di campo del Salisburgo capito con la sconfitta che è immeritata perché la sconfitta è immeritata se andiamo a guardare ripeto l'andamento della partita Patrizio quante parata ti ho avuto fa zero in operativo spettatore non pagante e noi se ritroviamo gente che è come Ebram tra sabato e oggi ci è costato due punti sabato e la vittoria oggi perché qui non è che se vincevi pareggiavi qui se vincevi la portabilità tua era finita a licevi sta partita perché le hai resi nulli nulli c'è bisogno là davanti di gente che ha fame di gente che si affaggò di gente che alza la testa quando deve dire in porta e no che sta tutto abbassato con la testa che stacca la testa di curva verso il basso e che cazzo e no ma poi succedono queste cose così no succedono queste cose così no per non parlare belotti poi oh ancora se stavo a spiegare perché gioca sette minuti perché ho fatto giocare a minuto perché ho fatto giocare sette minuti te credo se quella è la cattiveria che c'è sotto volta a due centimetri d'arica che tiri la mossa e la leggeva col piatto mando cazzo vai che gliela tirano a bocca al portiere ha fatto passare come se forza chissà che ha fatto ha fatto un miracolo e ha fatto un cazzo perché se l'hai ritrovato a bocca quando tu vedi da un frigorifero decollo una puntata lì tu hai sbracato tutta la porta tu hai sbracato se sta cosa sembra ma al primo tempo che corre davanti a tu per tu col portiere con sta testa bassa e gliela tira sul petto gli ha fatto la nicchia ma la madonna gli ha fatto come fai a piccia se non fai go riperno alla prova offerta non è stata male la solita classica romane purigno bene in difesa strutturata bene compatta organizzata equilibrata e che produce perché le azioni da goce le avevamo avute tre il primo due al secondo ma non fai go e sta diventando un problema sta gente se deve sbagliare sta gente ce ne aveva fame là davanti deve fare go deve fare go deve fare ce ne aveva fame perché se non c'è fame così sta diventando un problema perdi punti per strada ripeto a me torti i primi 20 minuti del primo tempo la roma ha fatto la sua partita in un campo che sembrava impossibile a detta dei morti impossibile sembrava sto campo e a me sto sanisburgo non mi ha presto nero per niente se complicamo sempre la vita da soli ancora una volta che se ne mette lì in condizione di rincore ma a differenza dei partiti che abbiamo tutto rincore ma c'erano avversari veramente dosti sto giro è una rincorsa se vuoi fare giovedì prossimo se vuoi fare la puoi ribaltare la puoi ribaltare ma serve cinismo serve cattiveria sotto porta serve a ricorder numero 9 perché tra leggi oggi se ci avevamo un numero 9 che ci aveva la fame vera davanti la porta che era una pace d'aria di rigore ci avevo due punti più in campionato e ci avevo la vittoria in tasca oggi in austria con sanisburgo che ripeto non mi ha impressionato per niente per come è stata descritta e dipinta non mi ha impressionato per niente e il migliore in campo loro è stato quello che ha fatto l'assister difensore centrale pavlovich oggi male matice male malissimo colpevolissimo sul che ho preso alla fine dove ha assennato il sesamo male matice male pellegrini l'altra volta imbarazzante imbarazzante pure oggi lorenzo il capiranno imbarazzante pure oggi male di bala che speriamo non sia niente legale che sia solo un risentimento uno scopo precauzionale come ha detto murigno speriamo bene male di bala perché al primo tempo dopo il concorrente chi salvo salvo zaleschi selic selic da quando si è rotto l'ha rotto mancini te dicono è mai più tornato inguardabile selic salvo cristante che ha fatto una buona partita zaleschi e sharawi e nonostante mero del culo che si è mangiato un sacco di goebra ma perché fa una buona partita là davanti poi vabbè bene smoling e bene bagnes bene pure il pugile tra l'inizio del primo tempo che era bello che era che sta bello ingorfato se si è fatto certà due tre volte come se ci fosse domani non tocca avere paura adesso testa domenica perché domenica sera c'è il verona un'altra partita importante ma giovedì prossimo quando li riceviamo qui nel nostro olimpico nel nostro stadio col sold out col tutto esaurito si può fare non so nessuno si può fare ma dobbiamo essere più cattivi più cattivi sempre forza roma fatemi sapere quello che pensate voi i commenti li leggo sempre tutti scusate ritardo dell'uscita ma stava chiuda live reaction e tutto e sempre forza roma